allora ragazzi piove il tempo fa schifo fa anche un po freschino quindi è proprio la giornata ideale per accendere per la prima volta il nostro camado bono grande che adesso salvo appunto dall'acqua sposto un pochino più avanti e mi avvicino anch'io per raccontarvi quello che abbiamo già fatto nel primo video l'abbiamo installato abbiamo cercato di costruire al meglio la struttura e poi abbiamo fatto calare all'interno questo grande uovo di ceramica rosso che adesso dobbiamo semplicemente capire a livello di prestazioni come si può comportare parliamo di un prodotto di poco superiore ai 1000 euro di spesa che offre una superficie più che adeguata per cucinare non soltanto per voi per la vostra famiglia ma anche per tutti i vostri amici non è l'unico prodotto di camado bono ma è quello più scenografico dal mio punto di vista perché ti dà la possibilità di riuscire a cucinare anche a mostrare non ve lo nego a livello di impatto video che cosa può succedere quando si va a fare cucina barbeco cucina camado con una cucina che va indietro di 3 mila anni con un prodotto di questo genere adesso che cosa vi farò vedere se nel primo video abbiamo fatto soltanto montaggio arduo ridurla sui laterali eccetera eccetera adesso facciamo proprio la prima accensione naturalmente ci aiuteremo con il chebraccio blanco di toro naturalmente nella pezzatura più grande proprio perché qui abbiamo tanto spazio da poter gestire no andremo ad accendere ma andremo anche a vedere i vari setup che ci mette a disposizione camado bono che rispetto ad altre aziende da anche proprio la possibilità di cucinare in maniera diversa a seconda della nostra preparazione per cui a seconda di che cosa dobbiamo cucinare noi possiamo organizzarci al meglio grazie alle griglie e ai deflettori che ci vengono messi già in dotazione di vendita questa è una cosa che vi ho raccontato nel primo video con camado bono grande che però vi ricordo praticamente c'è tutto quello che vi serve copertura compresa e con questo clima meno male che c'era eccoci qua allora con il nostro camadone lo chiamerò così perché camado bono grande è troppo lungo ma camadone ragazzi se funziona la definizione allora che cosa vi avevo raccontato al montaggio vi avevo raccontato che qui ho le ventole di uscita vi avevo fatto vedere che e cerco anche di allontanarmi un pochino così almeno lo vedete meglio a disposizione ho i due vassoi laterali che sono molto molto comodi l'apertura facilitata tutto il legno naturalmente dentro vedete che non sono ancora andato a organizzare esattamente gli spazi perché voglio vedere con voi esattamente che cosa c'è a livello di possibilità di organizzazione della nostra cottura quindi prima di andare ad accendere andiamo a vedere i vari setup che camado bono ci mette a disposizione insieme a questi vassoi laterali che rispetto ad altre case come già vi raccontavo sono disposti non diciamo paralleli se vogliamo ma sono spostati un pochino avanti questo per agevolarci nel momento in cui andiamo a cucinare a spostare e ad appoggiare tutto quello che ci serve tutto quello che ci interessa naturalmente avevamo a disposizione tanti accessori ma quello che mi preme di più farvi vedere per rivedere è questa parte qui la spacchetto e torno da voi anzi sapete cosa ripensandoci possiamo farlo direttamente qui tanto a parte in polistirolo direi che non si offende e voi nemmeno almeno spero allora ecco fatto vedete che è tutto organizzato in maniera tale da non andare a distruggere la ceramica quindi anche tutte queste parti vanno rimosse e soprattutto vanno tagliate e se una cosa la tagliata mi serve la forbice che non ho mannaggia ragazzi ci siamo sono riuscito a liberare da fascette e altro allora vedete che cosa abbiamo abbiamo a disposizione la nostra struttura in acceio inossidabile comoda perché può andare in lavastoviglie ammesso che ne abbiate una talmente grande un ulteriore supporto a disposizione poi vedremo che cosa ci serve e abbiamo il deflettore di ceramica diviso in due parti questo perché saremo così agevolati a fare magari una parte di griglia una parte di cottura in cottura appunto diretta e una parte invece in cottura indiretta in modo tale da non dover andare a impiegare un deflettore unico ma abbiamo già una situazione in cui abbiamo un deflettore tagliato a metà che ci può aiutare abbiamo due mezze griglie e sono due mezze griglie anch'esse in acciaio inossidabile il che ci garantisce una facilità di pulizia senza pari e tanta comodità di gestione anche per quanto riguarda la cottura la nostra griglia ovviamente come dicevo divisa in due parti può tranquillamente essere ricompletata per un diametro di quasi 60 centimetri e vedete che cosa abbiamo a livello di opportunità naturalmente per fare tutta la cottura senza deflettore ci basterà rimuovere appunto il deflettore stesso e invece andrà inserito subito una volta acceso il carbone questo perché rischiamo altrimenti di vederlo crepare cioè non morire ma crepare delle venature nella ceramica quindi il consiglio è quando accendete il barbecue naturalmente andate a buttare dentro al deflettore sempre che vi serva attenzione però perché non c'è soltanto la griglia in acciaio inossidabile tra i tanti accessori che camado bono mette a disposizione c'è anche la griglia in ghisa come sapete io amo la ghisa rispetto all'acciaio inossidabile perché detto in maniera molto onesta a pulire l'acciaio inossidabile sono non dico incapace ma poco ci manca adesso vediamo però bando alle ciance perché tanto non mi interessa se non sono capace a fare qualcosa altrimenti non stareste guardando questo canale andiamo a vedere come entra tutto dentro il nostro camado bono grande o meglio dentro il nostro camadone no scusate dimenticavo una cosa scrivetemi nei commenti se il ragionamento che faccio è giusto considerando che io qui ho due buchi vado a metterli in corrispondenza degli anelli che sono qui o meglio delle dei ganci che ci sono qui andando ad appoggiare poi il resto sopra il resto della mia struttura scusate pessimo gioco di parole questo secondo me ci consente di utilizzare questo anello come porta per esempio pentole potremmo metterci un forno olandese tranquillamente dentro senza difficoltà oppure per altri scopi un'altra cosa che non vi ho detto che è altrettanto determinante è che è altrettanto chiaro che godere di una struttura del genere mi dà l'opportunità di mettere le preparazioni ad altezze diverse o comunque di utilizzare altezze diverse a seconda della mia cottura per cui in questo caso noi possiamo tenerci tranquillamente così tutto quello che ci serve oppure no adesso noi non andiamo a mettere anzi sì scusate sto dicendo il nostro video adesso noi andiamo a vedere come entra tutto nel camadone è vero avevo lasciato ancora degli accessori purtroppo nonostante il terrazzo sia grande cominciamo ad avere una certa mancanza di spazio ma più che altro tutto è dettato dal mio disordine però diciamo che una volta organizzati al meglio gli anelli di ceramica come avevamo fatto nel corso del primo video ci basta semplicemente appoggiare in questa maniera il basket per cui diciamo il nostro cestino tra virgolette di acione inossidabile per riuscire a fare quello che ci serve come vi raccontavo prima altezze diverse a seconda della distanza che vogliamo mantenere dal carbone poi è chiaro che qui possiamo mettere carbone a bizzeffe anche per andare avanti tante 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 ore per cui adesso in buona sostanza che cosa facciamo andiamo a rimuovere il basket perché non stiamo cucinando questa volta stiamo semplicemente facendo un po di seasoning cioè stiamo accendendo per la prima volta il carbone e vogliamo soprattutto fare in modo che eventuali materiali utilizzati per l'assemblaggio del nostro camadone si bruciano quindi noi cosa faremo apriremo tutto anche per vedere un po che temperatura arriviamo in modo tale da dare appunto una prima accensione al nostro camadone buono grande allora da una parte voglio farvi vedere al meglio che cosa facciamo dall'altra non voglio sprecare il grandissimo carbone che mi ha mandato tommaso al quale ho chiesto un carbone per questa occasione un carbone speciale e mi ha mandato e se vi ricordate vacanze vacanze in america offerte speciale a parte questi ricordi di cinematografia pazzesca vedete che questo è un carbone un signor carbone direi con una pezzatura veramente ampia ed è una pezzatura che mi suggerisce anche ovviamente una durata incredibile adesso andiamo a prendere il nostro consueto pistolone per andare ad accendere il nostro carbone e lo so lo so vi devo dire una cosa andrea di bibiculab mi direbbe di metterne di più ma come prima accensione tutto sommato potrà bastare dai no ok visto che piove abbiamo la corrente distante la terra e andiamo ad accendere allora voi forse non vedete la fiammella ma vi garantisco che c'è adesso lasciamo accendere bene bene poi andiamo avanti andiamo avanti vediamo quanta quanti gradi raggiungiamo allora sono passati cinque minuti dieci della verità e siamo più o meno intorno ai 125 gradi vi faccio vedere che cosa sta succedendo all'interno del mio camadone si sta sprigionando un calore molto importante e naturalmente le braci cominciano a prendere colore vediamo fino a che punto arriviamo sono proprio curioso avete visto che avevo già chiuso il coperchio con questo sempre meccanismo facilitato che mi consente di non gestire tutta la pesantezza del coperchio vedete che però le ventole d'uscita sono completamente aperte esattamente come la ventola adentrata andiamo avanti e lo lasciamo sfiatare ragazzi mi sono distratto lo ammetto sono entrato un attimo dentro la telefonata quindi sono passati 20 minuti forse 25 40 dove è finito il mio termometro è finito intorno intorno è difficile dirlo oltre i 400 gradi vedete infatti quanto sta spingendo il che braccio mamma che meraviglia che meraviglia adesso chiudiamo e traiamo qualche conclusione temperatura straordinariamente altra chiudiamo quando dicevo chiudiamo intendevo la ventola d'entrata la ventola d'uscita e vedete come la temperatura si è già calando da oltre 400 450 gradi sta continuando a scendere naturalmente noi abbiamo portato in una condizione estrema però diciamo che riusciamo a gestire tranquillamente la temperatura a seconda dello shock termico che vogliamo dare alla nostra preparazione in modo tale che riusciamo a fare quello che ci siamo prefissati è chiaro che da un certo punto in poi sarà molto complicato scendere arriveremo intorno all'immagine 150 gradi forse qualcosa in meno dentro il carbone continua a ad essere alimentato soltanto che abbiamo tolto l'approvvigionamento di ossigeno quindi inevitabilmente andrà a estinguersi è chiaro che però essendo materiale che conduce calore comunque che si è scaldato per tanti minuti per una mezz'oretta quindi quasi la ceramica continuerà naturalmente a restare caldo ed è qui che noi potremmo operare per fare un'ulteriore cottura intanto vedete che mentre sto continuando a parlare sto parlando da un minuto vedete che siamo già scesi quasi intorno ai 320 gradi per cui devo dire che mi ha colpito mi ha colpito come ha condotto bravo adesso concludiamo comunque ragazzi non c'è niente da fare basta far bruciare qualcosa basta accendere qualcosa la giornata di cambio da così a così per cui io ve lo offro tranquillamente come viatico alle al logorio della vita moderna come diceva calendri credo fosse calendri nella pubblicità di un noto a mano vabbè camadone camado bono grande l'abbiamo acceso l'abbiamo riempito di che braccio vi ho fatto vedere i vari setup la cottura a due zone insomma tutte le possibilità che ci vengono messa a disposizione da camado bono per riuscire a darci un prodotto completo che si possa poi declinare in una cottura lunghissima o semplicemente in una cottura alla griglia per cui potete fare tutto quello che volete quando è molto caldo l'unica cosa state attenti ad aprirlo ma è un discorso che vale per tutti i camado io sto continuando a prendere dell'acqua quindi vi metto qui sotto tutti i riferimenti di camado bono come sempre e poi naturalmente qui potete iscrivervi al canale se volete se vi fa piacere qui sotto potete guardarvi un altro video a breve entro poco la prima cottura con il camado bono grande e chissà cosa sarà ciao ragazzi alla prossima